io non sono quello che credi qualunque cosa sia le serve il nostro aiuto qualcuno arriverà qualcuno è già arrivato questo che mi dici degli altri tre non le troverai mai quindi lascia perdere il quanto sesso continuamente io si può dire che io viva dentro di lei perciò se pensi di mandarmi una lettera sull'indirizzo metti presso la sua vagina io c'ho bisogno di questa casa non te la vendo cico dove sei sono qui i 10.000 testoni questa è la proposta viviamo nel buio per servire la luce ehi ti ho mal se vuole lavare le mani come quando operato se lavò le mani di fronte a al nostro signore santa madonna manco le base del mestiere del ricordo guardare tutto da un'altra prospettiva la solitudine sempre tempo passato con il mondo ddc ddc in ogni caso sono preoccupata per te ti amo iniziamo la sua valutazione psicologica ma niente adesso finiscile perché se ammazzi lui sei morto fa quello che devi fare ma hai preso una strada lunga e ho scusso walk up on the stage and you look around and it feels like a dream lungo è devi e lungo è ology segui 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 pendurue altri hai segui segui